Vedo poco il mio ragazzo perché, vabbè, io sono di Vicenza, lui è di Brescia e a me non interessa quello che dicono le frasi romantiche sulle relazioni a distanza. Se per trovare la persona che ami devi spendere soldi e prendere due treni non è amore, è turismo sessuale.